ciao a tutti eccoci qui con un nuovo video riguardante le cripto valute allora oggi volevo tornare sul sull'analisi del bitcoin perché in questa settimana c'è stato praticamente il raggiungimento per la seconda volta del valore intorno ai 70 73 mila dollari ovviamente era un valore che aveva raggiunto diversi mesi fa ed ora diciamo che sta testando sta testando il doppio massimo per la seconda volta come sapete al momento sta a 71 mila e 203 dollari non sto lì a spiegarvi cosa è il bitcoin perché si può dire per me che è la regina delle cripto valute è la più conosciuta al mondo oltre alle altre e quindi andiamo e mettiamoci sul grafico ecco adesso chi mi segue nei canali innanzitutto vi voglio dire che il mio non è altro che un consiglio finanziario ma bensì un un approfondimento dei grafici e vi metto in condizione di poterli analizzare nel migliore dei modi però non essendo un consiglio finanziario spendo due parole per il bitcoin che come ho detto poco anzi all'inizio del video per me è la migliore cripto valuta al mondo certo e ce ne sono tante di opportunità da accumulare perché qua si parla di accumulare cripto a lungo termine non si parla di fare trading ok o di in gergo tradare del gergo del forex il trading è molto molto pericoloso c'è bisogno di particolari studi e competenze che si acquisiscono nel corso degli anni non sono delle degli studi campati in aria vi mettete sul grafico o su quello che io vi faccio vedere ho detto va bene ok allora michele ci fa vedere uno un analizzare del grafico molto molto dettagliato ci sentiamo e siamo in grado di poter fare trading no non è così quindi io vi porto a conoscenza di come si muove il bitcoin nel grafico con candele prima cosa guardate qua in alto a sinistra settimanali scenderemo fino alla candela oraria con i due indicatori che io uso però ovviamente tutto ciò a mio parere è a scopo di accumulo quindi accumulo della del bitcoin e incremento del proprio cripto wallet va bene ok allora chi mi segue nei miei video e vi invito sempre di più a farlo oltre a seguirmi a mettere il like a questi video a condividere i miei video dove volete inoltre ad attivare la campanellina così quando io pubblico un video vi arriva un messaggio chi chi praticamente ha guardato e guarda i miei video sa benissimo che io uso due indicatori che sono questi uti bot alerts che è quello del sell e del buy e trend lines support e resistenze che questo qua resistenza e poi supporto che è molto più in basso che adesso non lo vediamo però quando io ho praticamente cambiato i settaggi time frame del grafico e l'ho passato nel settimanale ho notato in diversi time frame che il l'indicatore del support e resistenza non era venuto fuori mi dava qui una sorta di punto interrogativo rosso come a dire questo indicatore è eccellente o meglio anche ottimo ma il grafico lo lo caccia fuori dal time frame daily in giù ok adesso io ho messo il time frame settimanale nonostante ciò è venuto fuori quindi c'è un bel rettangolo grosso rosso con una bella resistenza a 73.835 dollari ovviamente io qui ho messo una retta orizzontale dove ho messo già gli 80k dove ci arriverà non so quando ma ci arriverà e qui qui praticamente io ho messo la mia semiretta e posso mettere le frecce allora freccia in giù qui c'è stato il primo tocco se guardate la linea tratteggiata in basso è stato ha toccato i 73.841 l'11 marzo 2024 praticamente aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre oggi primo novembre si può dire sette mesi fa ha toccato il primo valore più alto in questa data ok adesso ad oggi ad oggi più o meno in questa settimana perché è sempre una candela settimanale in questa settimana sta toccando quest'altro valore qua quindi 73.835 ecco io adesso qui ci ho messo una candela e qua ho creato il doppio il doppio massimo quindi uno e una due in questa zona che ci metto un piccolo rettangolo mio personalizzato ecco in questa zona ok aspettate che lo riempio dove ho messo questo mio rosso vediamo se riesco a metterlo più un rosso più forte ok qua qui c'è una zona dove ha beccato una volta qua una volta qua e un'altra volta qua ok e io la lascio voglio vedere dopo quando scendiamo di time frame cosa il mio rettangolo che importanza avrà intanto qua c'è un doppio massimo dove allargando vedete che ha fatto uno spike lunghissimo ha toccato questo preciso questo valore questo qua e adesso andiamo nel time frame giornaliero scendiamo nel time frame giornaliero e qui ecco quello che vedevamo qui come spike questo questo non è altro che queste candele rosse che già in in daily ha iniziato a formare ok ecco questo è qua io qui lascio il mio la mia freccetta qui metto bene questa ok e qui c'è il rettangolo rosso chiaro che mi ha messo l'indicatore che è praticamente larghissimo adesso io qui c'è il mio famoso rettangolo che lascio ancora qui come vedete ci ha rimbalzato ed è sceso giù e adesso qui è arrivato ai 70k guardate 70k questa linea 70k fate vedere questa che cosa ho messo sì ecco 70k cosa ha fatto ai 70k ha fatto questo spike sta rimbalzando qui e a quanto pare questa la tolgo vediamo un po ecco a quanto pare qui ne 70k vorrebbe salire quindi non sappiamo se vorrà fare praticamente così ok per poi per poi tornare giù perché qui in daily vedete questa linea prima continua e poi tratteggiata e questa fortemente tratteggiata dell'up trend che non è altro che un valore un trend rialzista quindi prima a 58 e 600 dopodiché quasi a 63 mila dollari ok c'è una seconda linea tratteggiata e potrebbe fare questo questo tipo di percorso ma non è detto io vi ho detto all'inizio non do consigli finanziari vi sto solamente solamente facendo prendere confidenza con i grafici ma io non prevedo il futuro pertanto non posso sapere che direzione prenderà questa candela ok quindi cancello questo e cancello quest'altro scendiamo nel time frame di 4 ore allora nel time frame di 4 ore vedo che fatemi vedere ok è rimasto è rimasto il mio rettangolo qui quello che ho messo prima ma il rettangolo del dell'indicatore è sparito è sparito quindi è un rettangolo molto forte nei time frame settimanale e giornalieri ma non da 4 ore in giù pertanto io qui ho messo un primo tocco qui ci metto un altro tocco metto la candela metto la freccetta più su ondevitare che va a coprire la parte selle ma avete capito qui c'è praticamente la parte buy ok qui c'è la parte buy dove il rimbalzato a 70.000 e sta salendo su quindi se noi allarghiamo così allargo sempre di più ok qui allargo è sceso ed è andato fino a qua adesso una volta che arriva qui qui non so cosa vorrà fare mi riferisco a questo punto qua ok questo lo cancello a questo punto qua non so cosa vorrà fare questa è una candela di 4 ore quindi probabilmente non ci arriverà ora o stasera ne farà un'altra qui un'altra qui ma la sposto poco poco in questa zona non so cosa vorrà fare tolgo questa freccetta e scendiamo nel time frame di due ore ok adesso nel time frame di due ore vedete che io ho messo la linea lunghissima la retta vediamo come la chiama che non manco mi ricordo linea orizzontale bene questa qui io l'ho messa qua ed è praticamente quella poco poco sopra al rettangolo che ha formato sempre l'indicatore questo qui adesso ci metto la mia semiretta qua faccio così ok adesso ingrandisco e qui non vedo più la parte di rimbalzo perché in h2 è sparita rimane forte questa qui a 73 mila e 623 dollari del rimbalzo è andato giù qui ha trovato a 60k un rifiuto ed è tornato sopra adesso allora io cosa vedo al momento e non è vedete perché vi dico che non conviene investire non conviene fare trading perché da qui a qui c'è pochissima differenza economica giusto 2000 dollari quindi se uno dice voglio fare trading ci butta solo i soldi perché non serve a nulla dovete solo se volete e se siete innamorati del bitcoin dovete solo accumulare quindi da qui a qui cosa vedo vedo così guardate che lui arriva fino a qua ok se non sfonda perché questa è una zona importante qui qui ok una volta che ha fatto così cosa accade prende e torna giù e torna qua magari voi aprite tantissimo il buy arriva secondo voi fino a qua sopra ma non c'è non ci arriva perché perché praticamente qui inverte inverte la direzione e va giù ok ecco perché ecco perché vi dico un conto è accumulare nel proprio conto un conto è fare trading scendiamo nel time frame orario che dell'ultimo time frame che io preferisco lascio sempre questo rettangolino nell'ultimo time frame che io preferisco così possiamo un attimino e vi faccio vedere come la situazione del del rettangolo rosso chiaro dell'indicatore ok un'ora o allora qui sembra che ci sia una piccola candela di inversione ma è verde è un verde scuro non è un verde chiaro è un verde scuro non è un verde chiaro però qui io sposto un altro b nel buy doppia fraccetta mi allargo vi faccio vedere la differenza di colore delle due candele questo colore lo vedete più poco poco più scuro rispetto a questo quindi quando è un colore così scuro significa che al momento c'è una incertezza e c'è un leggero trading un leggero sell short nel trading che va giù se dovesse questa diventare così rossa qui appare viene fuori il indicatore del del sell ok l'indicatore questo qui viene qua e praticamente lui continua fino a qui sotto se invece questa candela sale 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 e diventa chiara significa che rafforza ancora di più il il buy ok e dovrebbe se lo rafforza sempre se se lo rafforza ok un attimo solo dovrebbe fare così ok così aspettate che la inverto faccio così ecco qua dovrebbe arrivare fino a qua se dovesse di nuovo salire su e poi andare su perché quello che io vedo quello che io vedo con i miei occhi al momento è che lui debba raggiungere questa zona questa candela qui non c'è arrivata prima qui è lateralizzato qua qua ok qui non c'è arrivata qua sopra si è avvicinata ma non c'è arrivata quindi questo lo tolgo quindi da qui deve arrivare qua una volta che arriva qua in candela oraria fa il doppio massimo e quindi col doppio massimo si si formerebbe un'altra un altro rimbalzo che poi porterebbe a una discesa ok ma di questa discesa non ne abbiamo certezza no no perché potrebbe guardate il grafico potrebbe fare così continuare a salire e arrivare ad 80k questa è la zona degli 80k non lo sappiamo nessuno lo può sapere ok tolgo questa questa freccetta adesso non scendo nel time frame di 30 minuti e 15 minuti perché per me non sono affidabili ve l'ho sempre detto ve l'ho anche detto negli altri negli altri video se le avete visti se non l'avete visti vi invito ad andarli a guardare dove analizzo diverse cripto valute ok oggi mi sono voluto dedicare al bitcoin perché in questa settimana è stata una settimana particolare e cruciale per la salita e per quasi quasi la raggiunta del doppio massimo come lo fate a capire mi direte come fai a capire che quasi arrivato al doppio massimo doppio tocco perché se vi metto il time frame settimanale ve ne accorgete guardate dovrebbe esserci un rettangolo rosso guardate ecco qua oh tolgo questo guardate qua questa la tolgo una freccetta questa la sposto qua qui ha già toccato il doppio massimo qui l'ha toccato qui l'ha toccato stasettimana possiamo dire che non è come queste che è molto lontano da qua a qua qui si può dire che è molto vicino 73.638 contro i 73.835 siamo a 200 dollari di differenza e ha fatto qua il doppio massimo ecco perché oggi ho voluto dedicare questo video in bitcoin per voi va bene buon trading a tutti anzi buon accumulo di cripto valuta a tutti e ricordatevi di seguirmi nel mio canale grazie e buona serata ciao 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 ciao